scattando la nuova linea no gods di gore play e dopo vi faccio vedere le altre vi faccio vedere un po' si vede più o meno cazzo insieme della grafica vuoi far vedere la grafica abbiamo finito lo shooting no god non vedo l'ora di farvi vedere perché sono veramente fighe